Oggi per il quartiere porzogliano è una data storica, ma non soltanto per il quartiere porzogliano, per la città di Trani. Questa strettoia è stata una vergogna per tutta la città in tanti anni. Dopo 40 anni finalmente si può dire che siamo arrivati all'ultimo step, prima dell'allargamento. Non è ancora un traguardo, siamo nell'ultima fase. Noi come comitato abbiamo seguito attentamente con un buon alleato l'amministrazione con la sua volontà. E in prima persona con il sindaco che si è impegnato per l'allargamento di questa strettoia ha fatto sì ad arrivare a questo risultato. Noi con molta tenacia e determinazione seguiremo i lavori, l'ultima fase, sperando che nei modi e nei tempi il prima possibile si realizza. Grazie.